Se intorno a te vedi solo il vuoto, se i tuoi diritti, i tuoi affetti, la tua dignità sono stati calpestati, poter contare su una concreta solidarietà aiuta a ricominciare. Lo Stato sostiene le vittime dei reati di tipo mafioso con un fondo speciale per i danni subiti. Per saperne di più chiama il numero verde 800 191 000, consulta il sito internet o rivolgiti alla prefettura della tua provincia.